Sono Tommaso Labate ed anche io chiedo una pensione per Riccardo Orioles, lo chiedo da italiano, da cittadino, da meridionale e anche da giornalista. Riccardo Orioles è stato ed è uno dei simboli del nostro mestiere, è uno dei simboli di come il nostro mestiere possa essere decisivo, certe volte per battere sopraffazione, violenza, criminalità organizzata, mafia. Mandiamo in pensione Riccardo Orioles.